Peter, è quello che cavolo... Ah, questo è il mio cane accompagnatore Brutus Ma cosa ti serve un cane accompagnatore? Beh, da solo non riesco a fare più niente, Brian Non posso guidare, non so quando attraversare la strada Ho fatto la cacca nel confessionale in chiesa Cosa che viene mal vista se non sei un barbola All'inizio pensavo di cavarmela anche senza vederci Ma non so, non mi sentivo così fuori posto da quella settimana passata con Superman Dobbiamo fermare Lex Luthor prima che possa contaminare le riserve aurifere della Terra Salve, scusate, so che siete in riunione Ma ecco, siamo ufficialmente a corto di bibite e di salatini al formaggio Quindi io la butto là Se magari poi vuoi fare un salto al negozio Cioè, per me è un viaggio di 2000 chilometri Per te invece sono 5 secondi Vabbè, io mi ecclisso Peter, ti devi ancora abituare, non puoi...